Mister, davvero tantissima amarezza perché per come si era messa la gara a quel rigore è sembrato davvero un full match al sereno. Ma sì, un rigore molto dubbio, anche se non voglio parlare di queste cose, però voglio parlare della prestazione della squadra. Secondo me hanno fatto una grande partita, abbiamo avuto quattro occasioni. È normale che tu quando hai diverse occasioni la devi buttare dentro perché poi alla fine succede un episodio molto dubbio. La partita la pareggi, però abbiamo giocato con una squadra che stava un punto sotto di noi. Oggi penso che la mia squadra abbia fatto una grande partita. Dovevamo purtroppo essere un pochino più cinici perché le occasioni l'abbiamo avute. E alla fine c'è stato quel rigore che ha un po' pareggiato le sorti della partita, però dispiace perché abbiamo fatto meritatamente, secondo me, una partita da portare a casa con i tre punti. Non avendo D'Eramo, giustamente, ho giocato con Fanti, che è un giocatore di esperienza, ho dovuto mettere Scutti e Pollino, che fanno parte dell'Avezzano. Hanno fatto una buona partita, poi ho inserito Acatullo, ho inserito Di Curzio, per cui ho bisogno con due punte e con Acatullo. Bene, ripeto, mi dispiace perché questa partita poteva avere un verso diverso perché la prestazione c'è stata. Se avessimo fatto gol, giustamente chiudere la partita anche sul 2-0 era completamente diverso. Poi prendere rigore all'ultimo minuto della partita è normale che ti rimane la mano in bocca. Ho giocato le ultime quattro ore, venti minuti addirittura con 4-2-4, con due esterni che sono attaccanti, con due attaccanti. Quindi, se non ci credevo, ho mandato un messaggio importante, credo. Anzi, il campo lo abbiamo fatto a mezz'ora dalla fine, abbiamo giocato con Dercole, Montagnoli, Calabrese e Pedalino. Più un messaggio di così, quelli avevano gli attaccanti e quelli abbiamo messo. Certamente, a livello, detto prima, di possesso palle e di palleggio, oggi perdevamo qualcosa, lo sapevamo, abbiamo giocato in un'altra maniera, cercare di verticalizzare subito e andare a cercare subito gli attaccanti. Certamente abbiamo sollecitato tantissimo Pedalino e Calabrese perché molte palle sono state giocate in maniera sporca, però lo sapevamo. Senta, al triplice fischio, cosa è successo sotto il tifosi ravezzani? Sono andato a salutare i miei tifosi che sono molto calorosi e, sinceramente, lo apprezzo tanto perché mi sembra di essere entrato nel loro cuore e questa è una cosa importante e mi ha fatto piacere. Poi sono passato sotto i tifosi ravezzani, ho giocato due anni all'Aquila, probabilmente non sono simpatico, ma mi hanno mandato a quel paese, ma mi sembra che la mia reazione sia stata corretta. Poi però è stata interpretata male, non lo so, comunque dai, io sono a posto con la coscienza e non ho problemi.